Pietro Foglia è il nuovo presidente del Consiglio regionale della Campania. In quota nuovo centrodestra, il nuovo presidente del Consiglio regionale è stato eletto alla seconda votazione. A spoglio terminato, Foglia ha riportato 32 preferenze, Gennaro Mucciolo 12, Carlo Aveta 5, Luca Colasanto e Gennaro Nocera due a testa, due le schede bianche. Non farò distinzioni di colore o di appartenenza politica, ma chiederò a tutti l'impegno per lavorare e dare risposte che all'esterno aspettano. Queste le prime parole al suo discorso dallo scranno più alto dell'Assemblea. Il ruolo di consigliere deve recuperare quel prestigio che aveva un tempo e che vicende vicissitudini indipendenti dalla nostra volontà hanno fatto sì che tale prestigio andasse via perdendosi. Credo che con il mio impegno e quello di tutto il Consiglio potremo approvare alcune delle norme intorno alle quali abbiamo discusso senza arrivare a nulla, ha affermato. E questi provvedimenti sono la legge sul turismo, il piano paesistico e il collegato alla finanziaria per il quale serve un'accelerazione. E poi, ancora, non posso non nascondere l'emozione e la soddisfazione per l'elezione di oggi, ha aggiunto, ma anche un velo di tristezza per il modo in cui sono arrivato a essere eletto come successore di Paolo Romano. Il lavoro che ora abbiamo davanti, ha sottolineato a nove mesi dal prossimo voto, non è un percorso agevole.